Sapete che piccoli cambiamenti possono portare a grandi trasformazioni nella vostra vita? Restate con noi perché subito dopo la sigla scopriremo come si può fare Sigla! Eccoci qua, eccoci qua, ben trovati sul nostro canale YouTube! Come sempre siamo Mirko E Gloria, questa è la famiglia minimalista Oggi A parte c'è Luna qui, si è seduta adesso sulla nostra schiania Tra poco entrerà nell'inquadratura sicuramente Ciao Luna, ben trovata anche a te Se non la vedete tra poco Eccola! C'è l'orecchio! Quindi salutiamo anche Luna E come sempre se non l'avete ancora fatto iscriviti al nostro canale Azzate la campanella Per ricevere notifiche Mettete like, commentate Vi aspettiamo Perché oggi vogliamo parlare con voi e darvi alcune pillole di saggezza Diciamo, ecco Luna che va dello schermo Non cliccare Luna che clicca nel frattempo Luna tecnologica Dicevamo Vogliamo darvi qualche pillola di saggezza Sulla crescita personale legata al minimalismo ovviamente Che cercheremo di farvi avere, ricevere Per portarvi a vivere un po' più di fiducia Quindi La prima pillola L'importanza di conoscere se stessi Quindi la consapevolezza di sé Per te mi viene in mente Che una volta ho visto un film Che diceva Che lei praticamente rimpeverava all'altro Di non sapere nemmeno come volesse le uova Cioè comunque lei diceva all'altro Tu non sai nemmeno come le uova le uova Cioè come ti piacciono le uova Poi alla fine comunque le ha provate tutte Dette no a me piacciono così Esatto È una cosa che ci sta Esatto Perché molto spesso Anche i nostri gusti Non conosciamo nulla Non conosciamo nulla neanche di noi stessi Quindi Come possiamo fare ad approfondire questa conoscenza di noi Eliminando il superfluo Perché eliminando tutto quello che abbiamo in più Intorno Fisico e non fisico Ci aiuta a concentrarci su ciò che conta veramente Come abbiamo sempre detto Quindi anche nel caso della conoscenza di se stessi Prima che degli altri ovviamente In caso di coppia ovviamente Prima Se non conosciamo neanche noi Come pensiamo di poter sapere cosa piace a lei? Per esempio Non lo possiamo fare Come diceva Gloria Non sappiamo manco come volevano le uova a noi Come ci piacciono le uova a noi Come pensiamo di poter fare qualcosa nella vita? Per esempio quando comunque gli dicevano Qual è il tuo piatto preferito? Non sapeva nemmeno cosa rispondere Qual è il tuo colore preferito? Non lo sapeva Qual è il tuo colore preferito? Io rosso Io nero L'importanza di conoscere se stessi Quindi per aumentare un po' più la fiducia Nella vita in generale Quindi crescere proprio personalmente Cominciate a conoscere voi stessi La consapevolezza di voi stessi E come abbiamo visto in altri contesti Evitare di fare cose solo per compiacere gli altri Seconda pillola che vogliamo lasciarvi oggi è la gestione del tempo Come possiamo gestire meglio il tempo Il nostro tempo E essere più produttivi Esatto Come possiamo farlo? Ad esempio? Comunque organizzandoci Ad esempio Mi viene da dire Cioè nel senso che magari abbiamo un'agenda O sul telefono O l'agenda quella fisica Che scriviamo tutti gli impegni che dobbiamo fare Però mettiamoci anche da parte Quel piccolo angoletto per le nostre passioni Cioè che ne so Ogni giornale è fatta da 24 ore E soprattutto oltre a questo Anche andare a semplificare queste attività quotidiane Senza andarci a complicare troppo la vita Andiamo a affrontare le attività quotidiane Semplificandole Senza incavonireci di problema Perché altrimenti diventiamo solo stressati E la produttività L'efficienza è a zero Quindi meno stress Più efficienza Uguale Gestito meglio il tempo E avendo più produttività Perché tanto se passo dieci ore Sulla stessa cosa Ho perso solo tempo Sono più stressato Perché non sono riuscito a farla E soprattutto non ho prodotto niente di più Perché se ce ne passavo cinque Fatte bene Perché molto spesso Quello che sbagliamo noi Mi ci metto in mezzo anche io È che ci distraiamo facilmente Quando facciamo qualcosa Qualche attività Quindi sto scrivendo le scalette del video E nel frattempo guardo i social Ad esempio E che cosa succede? Che sbagli tutto Perché perdi tempo da tutte e due Cioè uno perdi proprio tempo L'altro fai le cose sbagliate Quindi è importante andare a Riuscire a gestirsi Poi non c'è un metodo Si possono usare Metodo pomodoro Metodo qualsiasi Però ognuno poi deve gestirla Come meglio crede Ecco Quindi oltre all'importanza Di conoscerle se stessi E anche gestire al meglio Il proprio tempo E il minimalismo ovviamente Nada a semplificare Ti aiuta in questo Per esempio io cerco sempre Di tenermi un'oretta libera Per leggere durante la giornata Solo un'oretta? Beh minimo un'oretta dai Cioè anche nelle giornate Magari più stressanti Che ho più cose da fare Comunque cerco meno Di mettermi un'oretta da leggere Perché ho visto proprio che Se metti caso Che un giornate Non riesco a farlo Mi sento molto più stressata Esatto Anche perché poi Mi deve da un euro Ogni volta che non legge Sul Kindle Scribe Quindi Terza pillola Che vi vogliamo lasciare Quindi consapevolezza di sé Gestione del tempo La gratitudine La gratitudine Cioè il minimalismo Aiuta tantissimo nella gratitudine Ma perché è importante Nella crescita personale La gratitudine innanzitutto E beh perché comunque Ti aiuta proprio A vivere la vita In modo molto più sereno Oh ecco esatto Quindi il minimalismo Dicevi bene Ti aiuta Perché? Sì aiuta molto Perché hai meno cose Ma più di qualità E ti aiuta ad apprezzare Le cose che hai Esatto Ma anche le cose non cose proprio Sì vabbè cose in generale Parliamo ovviamente Perché non oggetti Proprio esperienze Proprio persone Tutto quello che hai Riesce ad apprezzarlo di più Apprezzare il fisico Non fisico Però comunque Minimalismo aiuta molto In questo senso Ma perché io ho anche Un diario della gratitudine Che ogni tanto lo faccio Specialmente nei momenti In cui mi sento un po' più Giù di corda Lo faccio E mi sento Molto meglio Dopo che l'ho fatto Cioè nel senso Che comunque Mi aiuta molto di più A alzare le mie vibrazioni Certo Ci sta È una cosa che ci sta Ovviamente E poi Ti aiuta molto Perché scrivendo tutte le cose Per cui sei grato Ti rende conto anche Che sono tante Esatto Perché senza scrivere La famosa carta e penna Che vince su tutto Serve anche a questo Quindi ovviamente Vi invitiamo a farlo Volendo Anche non per forza Come ti amo Carta e penna In generale Qualsiasi foglio di carta Cominciate ad appuntarvi Magari la sera Quello per cui siete grati E un consiglio Che vi do Extra È appuntarvi anche Gli obiettivi Perché gli obiettivi Scritti Rimangono Quelli che vi tenete in testa Non li raggiungerete Probabilmente mai Quindi scrivetevi gli obiettivi E quello per cui siete grati E gli aiuteranno Parecchio Pillola 4 La resilienza Che cos'è la resilienza Non tutti lo sanno Beh affrontare comunque Le sfide con fiducia E crescere Crescere da quelle sfide Esatto La resilienza È rialzarsi dopo una caduta Essere migliori dopo un errore Esatto Non Ma dopo anche una difficoltà Una difficoltà Senza farsi opprimere Da quello che sia sbagliato Che è successo Di negativo Senza vederlo come un fallimento Esatto E chi cresce Chi arriva a raggiungere l'obiettivo È colui che dopo un fallimento Lo prende per imparare E riparte Quindi resiliente Riparte Si rialza Riparte E continua E raggiunge poi Il suo obiettivo Perché gli errori nella vita Ci stanno I fallimenti ci stanno E l'importante è Non farsi distruggere E fermarsi lì Ma ripartire Avendo imparato un qualcosa Da quel fallimento E ovviamente Anche per esempio Durante le malattie I medici hanno studiato Che quando comunque Le persone sono più resilienti Rispetto ad altri Riescono molto di più Ad andare avanti Con gioia E a superare anche Quella malattia Non è proprio superarla Però a viverla più A viverla in modo molto più Leggero Leggero Diciamo così Quindi poi E a migliorare Soprattutto Esatto Come diceva Gloria Affrontare le sfide Con fiducia ovviamente Derivante anche Da la resilienza E il minimalismo Come ci può aiutare In questo Liberandoci dal peso Delle cose materiali Soprattutto E anche quelle immateriali Tossiche È una famosa Amica tossica Come sempre Che ci aiutano In questo caso Ad affrontare meglio Le avversità Perché se io ho Un peso già Alto di cose Inutili Di cose Tossiche Di cose Non propriamente Consone A quello che sono io Che ho fatto Per compiacere gli altri E tutto quello che volete Se già ho un peso così Le avversità Diventano un peso maggiore Se io invece Vivo tranquillo E affronto un'avversità Riesco ad affrontarla meglio Perché il peso che porto È più leggero Porto solo quella Dell'avversità Riesco ad affrontarla Con più tranquillità E con più Serenità E se poi fallisco Resilienza Mi alzo E riparto Ovviamente Ultima pillola Erano cinque Quelle che volevamo lasciarvi Le relazioni significative Vabbè Questo è fondamentale Siamo le cinque persone Che frequentiamo di più Esattamente Quindi Come innanzitutto Affrontiamo Come costruire E mantenere queste relazioni Significative Nella propria vita Quindi andare Andando a eliminare Anche quelle negative Perché Perché è collegato Con il minimalismo Anche questo Quindi Abbiamo cercato Di inserirvi Concetti Di minimalismo All'interno di queste pillole Di crescita personale E farvi capire Come il minimalismo Aiuta E non poco In questo senso Il minimalismo Ovviamente Come abbiamo detto È meno È più Le sismore Per eliminare E eliminare il superfluo Andiamo a eliminare Le relazioni tossiche Le relazioni tossiche Non significa Decapitarle E eliminarle Del tutto Ma anche Semplicemente Solo allontanarle Lasciarle Abbastanza distanti Se non si possono Chiudere direttamente Perché? Perché Dobbiamo circondarci Di persone Soltanto Soltanto persone Positive E di valore Come diceva Gloria Siamo le 5 persone Che frequentiamo Di più Secondo me Anche 6-7 Quindi o ne frequentate Di meno E quindi Riuscire a essere Più tranquilli Oppure di quelle Che frequentate E più spesso Comunque Devono essere Veramente persone Positive E di valore Nel senso che Devono lasciarvi qualcosa Non rubarvi energie Esatto Non i vampiri energetici Come si chiamano Dovete cercare persone Che vi possono insegnare qualcosa Che sono anche affini a voi No magari Sono affini Che possono darvi Quel qualcosa in più Senza stare a dire Senza avere Che loro abbiano la paura Di lasciarvi qualcosa Perché poi rubate qualcosa No perché quelli sono Negativi Quelli positivi Sono quelli Che ti insegnano Magari quello Che ha reso migliori loro Senza stare a pensare Alle conseguenze Magari come ruba il lavoro No perché Non è quello L'obiettivo Di una relazione Positiva Ma voglio dire anche Che comunque Dobbiamo mantenere Ma a parte Che dobbiamo mantenere Le sane relazioni Cioè Esatto Ma poi comunque Che dobbiamo Circondarci di persone Che ci accettano Per quello che siamo Veramente Esattamente Perché se una persona Mi vuole cambiare Non mi accetta Per quello che sono Direi di no Altrimenti Non ti avrebbe voluto cambiare Esatto Se ti vogliono fare Immagini e somiglianza Torniamo a Fare cose per gli altri Per compiacere gli altri Che non va Assolutamente Bene Quindi Queste erano Le 5 pillole Che abbiamo potuto Lasciarvi Molto semplici Molto tranquille Anche se Come al solito Siamo arrivati quasi A un quarto Siamo a 12 minuti Di video Tranquilli Non vi preoccupate Siamo sempre noi Quindi Le 5 Recap Veloce Consapevolezza di se stessi Gestione del tempo Gratitudine Residenza Relazioni Significative Esattamente Queste sono le 5 pillole Se vi è piaciuto il video Ovviamente lasciateci il like Iscrivetevi al canale Se lo avete fatto Troverete altri canali E altri contenuti Su crescita personale Minimalismo Ma anche su risparmio E sostenibilità E fateci sapere Qui sotto nei commenti Ovviamente Quali pillole Magari Di queste 5 Vi ha ispirato in più E se ne avete anche Altre da aggiungere Quindi Noi Vi aspettiamo al prossimo video No sono aspettate Arrivare un quarto d'ora Però è troppo lungo Vi aspettiamo al prossimo video Ciao